Se comprendere è impossibile, conoscere è importante, lo diceva Primo Levi, chimico e scrittore, che ha raccontato le sue terribili esperienze nel campo di sterminio nazista di Auschwitz, in cui fu deportato in quanto ebreo. Sono trascorsi 72 anni dalla liberazione di quel campo di concentramento e il comune di Tarsia anche quest'anno impiega il giorno della memoria per trasformare il ricordo in un elemento vivo. Le iniziative organizzate nel campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia in programma dal 24 al 29 gennaio sono state realizzate in stretta collaborazione tra il consigliere delegato alla cultura Roberto Cannizzaro e l'associazione Ferramonti. Erano studenti, erano erranti, erano ebrei, è stato il filo conduttore delle giornate, oltre che il tema del convegno al quale hanno preso parte il sindaco di Tarsia Roberto Ameruso, Franco Sergio, consigliere regionale, Cinzia Robbiano, bibliotecaria e studiosa di Ferramonti di Tarsia, Francesco Filareto, storico e scrittore, e Yolanda Bentham, figlia di David Ropshitz, internato a Ferramonti dal 1940 al 1943. Una giornata vissuta all'insegna delle forti emozioni, soprattutto quando a parlare sono stati ricordi alle memorie di chi è stato testimone del non provato, ovvero delle persone che sono nate dentro una ferita non vissuta come quella di Yolanda Bentham. Al termine del convegno è stato presentato il film La croce è la stella del regista Salvatore Lopiano, liberamente ispirato alle vicende accadute a Ferramonti di Tarsia. Fiorenza Gonzales per la Cineus 24.